Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con l'evento Innovazioni, promosso dalla sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara, con il patrocinio del Comune di Pescara e i suoi premi. A vincerli saranno piccole e medie imprese, start-up, olus e spin-off universitari che si candidaranno presentando i propri progetti innovativi in termini di innovazione di prodotto, di processo o organizzazione. Alla conferenza convocata dal presidente della sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara, Paolo De Grandis, sono stati illustrati tutti i dettagli. Innanzitutto si riconferma l'appuntamento con l'innovazione a Pescara, all'Aurum, il 12 e il 13 novembre, in un luogo simbolo dell'innovazione pescarese. Innovazioni ormai aggiunge la sua ottava edizione, intendiamo promuovere tutte quelle imprese, PMI, start-up, spin-off universitari, appunto abbiamo anche aggiunto le onlus, perché le onlus fanno anche loro molte attività innovative, per dare loro la possibilità di presentare le loro innovazioni. L'evento, come ormai da tradizione, fa da contenitori anche quest'anno al Premio Nazionale Campioni di Innovazioni. Grandi aziende che vede protagoniste realtà imprenditoriali affermate, i tre protagonisti sono stati annunciati oggi e porteranno la loro testimonianza all'Aurum il prossimo 12 novembre. Si tratta di Mauro Cianti, addie presidente di Don De Foller, il signore dei Lavaggi, l'azienda di Corropoli, selezionata dalla giuria per la capacità di innovazione espressa. Secondo Big, Gabriele Gravina, presidente del gruppo Gravina, azienda scelta per l'attenzione che dedica al territorio. Terza testimonianza, Cristina Molli, sediatrice di Ocapi Network. Presente il sindaco di Pescara, Carlo Mascia, alla conferenza di oggi ascoltiamo il direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, Luigi Di Giosaffatte. Scorso anno l'innovazione è andata completamente in remoto su due location, uno studio importante di Rete 8 e la nostra sala Orofino. I risultati sono stati veramente interessanti. Quest'anno torneremo, stando ancora così la situazione pandemica, anche in presenza con un'attenzione particolare a tutti i regolamenti anti-Covid e speriamo di riproporre il livello di innovazione che questi ultimi anni ci ha portato ad essere anche un format nazionale.